Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Lutto improvviso nel calcio italiano Il mondo del calcio italiano si trova a dover affare nuovamente i conti con un altro terribile lutto. Questa volta, però, la tragedia non è stata provocata da una malattia, bensì da un incidente stradale che ha spezzato la vita del fratello di un ex noto calciatore. Ad essere colpito dal tremendo lutto, infatti, come riportato da tuttosport.com, è stato l'ex giocatore e vice allenatore della Juventus Angelo Alessio. Stando a quanto si apprende, Cosimo Alessio, fratello di Angelo, due settimane fa, precisamente il 18 marzo, è stato coinvolto in un terribile incidente stradale a Capaccio Pestum, in seguito al quale è rimasto gravemente ferito. Alla fine, però, dopo due settimane di agonia, Cosimo Alessio è morto al Ruggi di Salerno in seguito alle gravi ferite riportate. L'auto sulla quale stava viaggiando Cosimo Alessio, una Hyundai-icona, si è schiantata contro un muro di recinzione che sovrasta il canale consortile. L'impatto è stato tremendo e Cosimo ha riportato delle gravi ferite, che gli sono risultate fatali dopo due settimane di agonia all'ospedale Ruggi di Salerno.